ciao a tutti questo è un breve video dove volevo farvi vedere qual è il mio progetto ideato per voi avevo fatto un post sulla community che vi invito ad andare a leggere e vi volevo far vedere l'idea che mi è venuta appunto per voi questa è una prova fatta con la mia iniziale e con una frase diciamo che io sento proprio per me e queste sono delle stampe molto particolari che possono essere fatte personalizzate a vostra richiesta o con l'iniziale o con la data di nascita o con il segno zodiacale come volete voi e sono in diversi formati come potete vedere questa è in a4 questa in a3 e poi c'è anche la stampa che può essere fatta in a2 ed è la misura per fare un poster queste qui non sono delle semplici stampe c'è una stampa certo con i vostri simboli le vostre iniziali quello che più vi piace è una frase che verrà scelta dal mio mazzo la bellezza della vita sempre per voi questo mazzo qua oppure presa da uno dei miei libri sempre dedicata a voi scelta casualmente oppure anche scelta da voi se voi volete un qualcosa di personale e poi sono caricate energeticamente in base alle vostre richieste se sono richieste che riguardano il lavoro che riguardano la fortuna oppure che riguardano semplicemente una pulizia energetica per quanto riguarda la vostra persona ho ideato questo progetto appunto perché a voi rimanga un qualcosa che sia tangibile e che voi possiate vedere ogni giorno chi volesse una stampa del genere mandata in modo digitale nel senso io preparo la stampa in base alle vostre richieste e poi magari si può fare tramite whatsapp oppure tramite mail e verrà mandata a voi sempre questo vale come una sorta di consulto perciò chi fosse interessato a sapere il prezzo di una stampa del genere perché io la mando in modo digitale e poi voi la potete far stampare su un foglio normale la potete far stampare su tela la potete far stampare su stoffa la potete far stampare dove volete questo è la stampa è a carico vostro per sapere il prezzo di questa stampa perché dietro alla stampa appunto c'è un lavoro energetico che viene fatto questo è un piccolo dono diciamo la stampa è un lavoro che viene fatto appunto perché a voi rimanga un qualcosa di tangibile un qualcosa che voi possiate vedere del lavoro energetico che viene fatto dietro e chi volesse una stampa del genere o volesse semplicemente informazioni sul sul costo di una stampa perché ogni stampa in base alla alla grandezza ha un costo diverso perché appunto c'è una risoluzione diversa per questo c'è un un compenso giustamente perché dietro un lavoro del genere c'è il tempo c'è appunto la ricerca delle vostre richieste e c'è appunto la come dire lo studio anche della frase in base a quello che voi volete chi volesse sapere informazioni più approfondite su questo lavoro energetico può contattarmi agli al numero whatsapp o all'indirizzo di posta elettronica che vede giù e io darò tutte le informazioni del caso sono dei lavori vedete molto carini molto semplici però come ripeto dietro c'è un lavoro energetico che viene fatto su prenotazione mi raccomando su prenotazione niente con questo io vi saluto vi ringrazio dell'attenzione sempre che mi date in ogni mia diciamo idea che mi viene mi viene fuori ciao a tutti benvenuti e bentornati in questo nuovo video dedicato a tutti coloro che sono nati il 8 marzo del 1976 io ringrazio serafina che scrivendomi nei commenti il suo nome e la sua data di nascita mi dà l'opportunità di fare il video appunto con questa data vi ricordo che chi volesse un video come questo può lasciarmi nome e data come commento e chi volesse un approfondimento può scrivermi in privato io gli darò tutte le indicazioni appunto per averlo e per parlare con me in questi video io calcolo pure e questo a livello gratuito il resto è sempre tramite consulto il numero del colore della vostra aura per quanto riguarda i nati l'otto marzo del 1976 il colore della loro aura è il viola per chi volesse più informazioni per sapere come avere più informazioni su questo colore dell'aura o per quanto riguarda la data di nascita può scrivermi in privato adesso andiamo a a vedere qualche curiosità su questa data eccoci qua con le caratteristiche dell'otto marzo 8 marzo il giorno dell'anticonformismo spesso incompresi i nati l'otto marzo avvertono il bisogno di fare le cose a modo loro che lo manifestino nel proprio modo di pensare nello stile di vita nella maniera di esprimersi o nell'aspetto fisico essi sono fondamentalmente degli anticonformisti che spesso si sentono agli antipodi con le tendenze generali sebbene siano in taluni casi dei veri cultori della tradizione arrivando persino a esprimere un'effettiva venerazione per la cultura del passato in generale sentono la necessità di rompere tutti i ponti con le proprie origini in maniera a volte violenta altre volte dolorosa al fine di poter diventare degli individui a tutti gli effetti tuttavia tale spaccatura può anche non avvenire per mano loro in quanto a causa della natura assai critica ed emotivamente complessa che li caratterizza non è da escludere che siano qualcun altro che sia spingerli per primo però comunque vadano le cose già nell'ultima fase dell'adolescenza o verso i 20 anni queste persone si rendono conto che la loro vita è destinata a essere un percorso tormentato e con ogni probabilità all'insegna della solitudine i nati in questo giorno sono amanti scusate sono animati da una da un notevole entusiasmo per la vita ma per quanto facciano raramente ottengono il consenso degli altri nel loro stile di vita e sulle loro idee ciò è dovuto in parte al loro impedo in parte al fatto che sono piuttosto intransigenti individualisti e non di rado decisamente provocatori nei confronti dei valori riconosciuti dalla società iconoclasti ma anche contraddistinti da un temperamento ribelle e aggressivo che non sempre favorisce le amicizie questi individui possiedono inoltre un carattere instabile che non li rende troppo affidabili agli occhi della gente nonostante tutto però sanno essere degli amici assolutissima assolutamente fedeli e leali ma coloro a cui è concesso il grande privilegio di considerarsi come loro amici scoprono presto che essi pretendono in cambio eguale onestà i nati l'otto marzo sono impeccabili nell'interpretazione del proprio ruolo e se lo decidono sono capaci di dedicarsi per anni interi allo stesso lavoro agendo magari in sordina altrettanto bravi si dimostrano all'occorrenza come pilastri della società o difensori dell'ordine costituito sotto sotto però sanno darsi da fare per contribuire ai cambiamenti al progresso e sebbene in alcuni casi tendono ad assumere una posizione assai conformistica magari mossi dal desiderio di garantirsi una certa sicurezza politica o finanziaria di norma trovano qualunque comunque la maniera di esternare nella vita privata il lato più stravagante della loro personalità spesso dotati di un formidabile magnetismo riescono a esercitare una sorta di potere ipnotico su un certo genere di persone ciò è dovuto sia alla loro forza mentale sia al fascino e all'intuito dei quali danno prova in gioventù le loro facoltà si presentano spesso instabili e inclini a sfuggire al controllo ma con l'arrivo della maturità essi riescono a influire sull'ambiente grazie a un sentile ammaliante dinamismo quantunque da giovani non siano del tutto consapevoli di tali poteri o non siano sufficientemente abili nell'esercitarli i nati l'otto marzo sono spesso dotati di capacità medianiche che possono essere più avanti negli anni non soltanto scoperte ma anche meglio organizzate appassionati cultori della magnificenza in ogni ambito non esitano a esprimere meraviglia e addirittura venerazione di fronte a qualunque manifestazione di grazia, potere e bellezza il segno zodiacale di appartenenza sono i pesci i pregi denati in questo giorno sono regolare, magnetico e intuitivo i difetti sono isolato, emotivamente difficile e capace di turbare allora vediamo l'otto marzo in che decade si colloca vediamo un po' nei nostri pesci 8 marzo, vediamo che decade è 8 marzo è seconda decade allora personalità dei pesci di seconda decade non di rado i nati in pesci seconda decade finiscono col trascorrere lunghi periodi in solitudine naturalmente adempiono ai loro doveri familiari e lavorativi come chiunque altro, ma pur operando con successo spesso si chiudono nel loro mondo non essendo di norma persone molto socievoli i pesci possiedono una cerchia di amici affettuosi e fidati che forniscono loro l'interazione sociale di cui hanno bisogno molti decidono di lavorare come liberi professionisti operando da casa o da uno studio privato e nel caso in cui siano inseriti in uno staff rendono di più quando possono contare su uno spazio tutto per loro dove possono tranquillamente chiudere la porta agli intrusi le persone nati in questo periodo hanno un grande dono in serbo per quei pochi intimi che sono ammessi nella loro cerchia l'intimità pochi individui possiedono una simile capacità di condividere in modo così significativo la loro personalità e la loro insolita vita interiore con gli altri coloro che hanno la fortuna di avere un amico nato in pesci seconda decade sanno che cosa vuol dire avere a che fare con persone davvero sensibili e spesso appassionate ma mai all'eccesso i pesci del secondo periodo non hanno vita facile nel mondo spesso isolati o addirittura perseguitati a causa della loro sensibilità e delle convinzioni estremamente personali che li caratterizzano essi possono anche cominciare a ritirarsi dalla società nel periodo adolescenziale o nella prima età adulta alcuni più normali tendono a una sempre maggiore intimità con se stessi non perché non amino il mondo esterno o ne siano traumatizzati ma piuttosto perché trovano la solitudine più utile e gratificante spesso infatti l'eccessivo frastuono e la società della vita quotidiana può turbarli o addirittura sconvolgerli poiché le persone nate in questa settimana sono generalmente aperte cordiali e sensibili la loro disponibilità è molto evidente di conseguenza essi possono essere soggetti più degli altri agli incidenti e alle malattie come pure a positive esperienze di apprendimento e di stimolazione dei sensi sembra che il destino dei pesci di secondo periodo sia di vivere fino in fondo gli alti e bassi della vita per fortuna tendono a essere estremamente resistenti e quindi a riprendersi da avversità da cui altri possono non uscirne indenni allora andiamo adesso a vedere per chi avesse l'ascendente in vergine vediamo un po' di andarci a trovare appunto questo segno e questo ascendente allora vediamo un po' allora vediamo un attimo di trovarlo allora eccoci qua sole in pesci con ascendente in vergine meno conflittuale nella posizione precedente perché il fantasioso pesci non più così svagato e sognatore preferirà tradurre in pratica i suoi fantascientifici progetti probabilmente comincerà mille cose ma ne concluderà solo una e avrà sempre molti sogni realizzati nel cassetto riuscirà però ad adattarsi bene alle regole usando la sua incredibile capacità di sgusciare fuori dalle situazioni sgradevoli proprio come un pesce dalle maglie della rete riuscirà sicuramente con la dolcezza e la tenerezza a farsi servire e a trovare chi gli dia una mano sia nel campo del lavoro sia nel districarsi dal dedolo di viuzze burocratiche nelle quali normalmente si perderebbe facendo leva sulla sensibilità altrui la grande abilità manuale unita alla genialità del sole può produrre un artista che vende bene le sue opere un artigiano artistoide che produce oggetti molto particolari e adesso come fine andiamo a vedere qual è l'oracolo che viene fuori per i nati 8 marzo 1976 allora abbiamo 5 10 15 20 25 30 36 39 e 40 abbiamo il numero 40 vediamo un po' eccolo qua allora se hai estratto questo oracolo sapevi che gli esseri della natura sono dappertutto si mostrano nel momento in cui ti permetti di riceverli possono essere fate, elfi, folletti e molti altri piante con figure che si mostrano ai tuoi occhi consapevoli chiedi a loro di contribuire a te con amore lo faranno volentieri tu ricevi perciò facciamo attenzione a tutti questi segnali che possono farci intuire che con noi stanno parlando appunto queste creature magiche bene io ringrazio tutti coloro che mi commenteranno e che si ritroveranno in questa descrizione che fanno parte di questa data 8 marzo 1976 ringrazio Serafina per avermi dato l'opportunità di fare questo video ricordo a tutti coloro che volessero approfondimenti sul colore dell'aura che per questa data e il viola possono scrivermi in privato e chi volesse un consulto privato con me può scrivermi sempre ai miei contatti io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo alla prossima